In un'epoca in cui tradizione e innovazione tecnologica si fondono, aprendo la via alla creazione di nuovi prodotti e servizi, l'artigianato a maggior ragione può offrire interessanti prospettive professionali ai giovani. Per questo il mandamento Confartigianato di Vicenza, in collaborazione con lo sportello Informa Giovani del Comune, mette a disposizione la propria esperienza sull'avvio di nuove attività imprenditoriali. Dalla home del sito informagiovani.vi.it si accede all'area denominata Affare Impresa, attraverso la quale è possibile prenotare un appuntamento gratuito con i tecnici dell'associazione. Questi aiuteranno gli aspiranti imprenditori nella fase progettuale e li affiancheranno per la soluzione di questioni tecniche, amministrative, normative, inerenti l'avvio di un'attività improprio. A chi volesse intanto farsi un'idea del servizio, segnaliamo l'incontro lancio mercoledì 19 presso l'Informa Giovani su agevolazioni e opportunità.